Allora, benvenuti a tutti a questo nostro nuovo caso clinico che oggi viene tenuto da due colleghe che conosco da tantissimi anni. Loro sono molto giovani, ma io ero molto vecchio quando loro iniziavano. Sono la dottoressa Fioravanti e la dottoressa Panarello che lavorano con il dottor Antonucci, che è il discarsa antiesame presso l'ospedale Galliera di Genova. Il caso è un caso molto, secondo me, frequente nella nostra pratica clinica, l'ipertensione polmonare e post-embolica. Sarà un caso clinico presentato dalle due dottoresse. Passo la parola al dottor Antonucci, l'altro discarsa anche di questo caso. No, niente, soltanto vi porto i miei saluti. Alcune considerazioni, le dottoresse poi non sono poi così giovani, anzi sono piuttosto... Grazie. Grazie. Si occupano di trombosi ormai da molti anni. Il nostro centro trombosi avrà bisogno di essere in effetti rivitalizzato e direi che lo stanno facendo piuttosto bene, strappando il loro tempo anche alla corsia, ma anche al loro tempo libero probabilmente. E quindi un ringraziamento da parte mia. So che Serena deve fare la notte, anche per cui io direi di cominciare subito. Grazie Gianluca. Allora, per condividere. Per condividere un discorso di piano. Allora, buon pomeriggio a tutti. Noi portiamo questo pomeriggio il caso di una giovane donna di 28 anni, senza precedenti patologici. Possiamo togliere un attimo questo? Lo iconizziamo? Ok. Senza precedenti patologici ha una familiarità per cardiomepatia dilatativa, il padre è infatti portatore di ICD, non ha altre familiarità importanti, in particolare non ha familiarità per tromboembolismo venoso. È una ragazza normopeso, non fumatrice, non fa nessuna terapia farmacologica, non ha mai avuto gravidanze ed è una ragazza sportiva. Pratica infatti in regolare attività fisica, più volte alla settimana anche con l'uso di pesi. La sua storia comincia ad ottobre 2020 con la comparsa di dispnea da sforzo ingravescente associata ad una certa tachicardia che la limita progressivamente nell'attività fisica. Incomincia a fare qualche esame del sangue, va tutto bene, esegue un ecocardiogramma che risulta negativo e viene posta dal cardiologo in terapia con un beta bloccante a bassa dose per via di questa lieve tachicardia. A dicembre 2020 peggiora acutamente la dispnea e presenta anche un episodio sincopale che lei attribuisce ad un episodio così ipotensivo, banale. Esegue privatamente un'attacca del torace, decide di non recarsi subito in pronto soccorso e all'attacca, eseguita senza mezzo di contrasto, vengono rilevate aree a vetro smerigliato bilaterali sospette per una polmonite covid correlata, motivo per cui si reca in pronto soccorso. I giorni precedenti aveva anche notato la comparsa di un lieve edema del braccio di destra. Arriva in pronto soccorso, questi sono i suoi parametri vitali, 110 su 60 di pressione, tachicardica, dispnoica al minimo sforzo, presenta un edema del braccio destro con degli evidenti circoli collaterali superficiali, non è ipostica, non è ipostica, ma ha un'alcalosi respiratoria, ha un'attacchicardia sinusale al tracciato e gli esami ematochimici mostrano un lievissimo movimento dell'atroponina, ma ha un BNP, un didimero significativamente aumentati. I tamponi, sia il rapido che il molecolare e la serologia per SARS-CoV-2 risultano negativi. Esegue un attacca del torace con mezzo di contrasto che fa vedere molti difetti di opacizzazione segmentari e subsegmentari bilaterali e l'ecoscopia cardiaca mostra una marcata dilattazione delle sezioni di destra con segni di sovraccarico pressorio ventricolare destro, con un movimento paradosso evidente del set interventricolare e morfologia di shape del ventricolo sinistro, tronco polmonare, ramo principale di sinistra dilattati, una PAPS stimata di circa 55 mmHg e, reperto un po' scomodo, anche una pervietà del forane ovale con uno shanta ancora sinistro-destro. L'ecodopper venoso agli arti superiori conferma il sospetto di TVP, infatti dimostra una TVP completamente occludente a xilo su clavia destra. La diagnosi di TEP bilaterale con disfunzione ventricolare destra, in TVP a xilo su clavia destra, la paziente viene ricoverata in TIC, dove la stessa sera si potende e viene sottoposta a trombolisi. Giorni successivi le condizioni migliorano rapidamente, purtroppo qualche giorno più tardi si positivizza il Covid, per fortuna in assenza di sintomi, e verrà trasferita in un reparto dedicato dove rimarrà solo pochi giorni, verrà infatti dimessa poi pochi giorni più tardi. Qualche giorno dopo, dalla trombolisi, esegue un ecocardiogramma che mostra già un quadro migliorativo, le sezioni destre sono ancora dilatate e ipocinetiche, la PAPS stimata di 39 mm di mercurio. all'ecocardio predimissione si evidenzia ancora disfunzione ventricolare destra, un quadro fondamentalmente invariato, questo ecocardio non ci dà PAPS cifrabile senza regurito tricuspidalico significativo. Viene dimessa in terapia con Rivaroxaban ancora in fase di carico e viene appoggiata al centro trombosi, al nostro ambulatorio. La rivediamo a tre mesi, sta meglio, anche se conduce ancora una vita di risparmio fisico per una certa faticabilità e dispnea per sforzi riferiti moderati. L'ecocardiogramma mostra ancora dilatazione e disfunzione sistolica del ventricolo destro con una PAPS che il referto riporta essere 38-43 mm di mercurio. L'ecodopper venoso fa vedere un residuo trombotico parietale in sede axilo su clavia destra. Passano altri tre mesi, la rivediamo in primavera, clinicamente sta meglio, riferisce una migliore toleranza allo sforzo, poi è particolarmente entusiasta perché è presa dai preparativi del matrimonio, si sarebbe infatti sposata dopo qualche mese, tuttavia indagando in effetti non è ancora tornata la normalità perché persiste in effetti dispnea per sforzi moderati intensi. L'ecocardiogramma dimostra però un quadro tutto sommato, insomma, discreto, le sezioni destre sono di normali dimensioni, la funzione sistolica del ventricolo destro è normale, ha una TAPS infatti normale e la pressione sistolica polmonare è però, insomma, ancora non rientrata nella norma. In questo arco temporale viene completato lo screening tombofilico che risulta tutto sostanzialmente negativo. quindi, in realtà, insomma, il quadro ecocardiografico a sei mesi è parso assolutamente miglioramento, ma persistono in effetti sintomi, sintomi che, diciamo, molto comunemente i pazienti lamentano dopo un episodio di embolia polmonare. infatti è assolutamente un riscontro comune in ambulatorio sentire lamentare i pazienti di una sintomatologia discnoica persistente con una certa faticabilità, intolleranza all'esercizio fisico, in generale una scarsa performance non soltanto fisica, anche, diciamo, mentale, spesso permane ansia, panico, cioè sono sintomi descritti in una grossissima percentuale di pazienti. Quasi sempre si parla di sindrome post-embolia polmonare perché di fatto non c'è un riscontro strumentale e più delle volte si tratta di una sorta di decondizionamento motorio associato forse anche a una componente funzionale. Esistono poi però pazienti che presentano quella che è definita come malattia cronica tromboembolica polmonare, che sono pazienti che hanno tutti gli effetti, sintomi assolutamente sovrapponibili ai pazienti con ipertensione cronica post-embolica, ma che di fatto hanno una pressione quantomeno a riposo polmonare normale e verosimilmente presentano incrementi sotto sforzo delle resistenze vascolari polmonari. In realtà sappiamo poco, diciamo, da un punto di vista della storia naturale della malattia cronica tromboembolica senza ipertensione polmonare, quindi non l'ipertensione polmonare post-embolica vera e propria in cui invece c'è proprio un rimodellamento, come vedremo, vascolare con le conseguenti ripercussioni emodinamiche. Quindi l'impatto prognostico di fatto del residuo trombotico cronico di per sé in assenza di, diciamo, conseguenze emodinamiche ad oggi non è, diciamo, ben noto. Diversa cosa invece quella piccola percentuale di pazienti che invece si cela in questa popolazione di pazienti persistentemente sintomatici che invece svilupperà un quadro evolutivo con una prognosi assolutamente in fausta se la diagnosi non viene fatta precocemente e soprattutto non viene, diciamo, trattata. Quindi, diciamo, è fondamentale nel follow-up del paziente inquadrare effettivamente i sintomi e cercare di standardizzarli il più possibile, quindi indagare sulla severità della dispnea, su quanto questo effettivamente impatta sulla qualità di vita, qual è la reale compromissione funzionale e attenerci a, diciamo, quello che dovrebbe essere il corretto follow-up del paziente con embolia polmonare. Quindi, la valutazione in ambulatorio deve essere proprio mirata a capire realmente come sta il paziente, qual è la sua limitazione funzionale. Quindi, nei pazienti che rimangono sintomatici a 3-6 mesi o nei pazienti non sintomatici ma nei quali esiste una probabilità clinica pre-test elevata e vedremo quali sono, diciamo, i fattori di rischio che possono effettivamente individuare quella categoria di pazienti che ha maggior rischio di sviluppare nel tempo ipertensione cronica post-embolica, bene, se sintomatici o asintomatici con elevata probabilità clinica pre-test, bisogna, diciamo, ovviamente valutare un ecotransporacico che rappresenta l'esame strumentale di primo livello che mi permette di, diciamo, di stimare la probabilità di ipertensione polmonare sulla base di una serie di criteri che poi Chiara vi farà vedere. Nei pazienti con elevata probabilità di ipertensione polmonare sulla base dei reperti ecocardiografici l'imaging di scelta non è l'attacca ma è la scintigrafia ventilo-perfusionale che ha un elevatissimo potere predittivo negativo per cui se è negativa mi può fare ragionevolmente escludere diciamo la genesi trombotica dell'ipertensione polmonare, cioè permette di orientarmi su altre cause della dispnea. Nelle situazioni dubbie possiamo considerare altri esami, per esempio il test cardiopolmonare che mi può dare l'idea di un'aumentata resistenza vascolare polmonare. Se ho poi una scintigrafia positiva devo riferire il paziente ad un centro specialistico dove verrà confermata la diagnosi di ipertensione polmonare attraverso il cateterismo destro che rappresenta diciamo il gold standard. Questi sono appunto i fattori di rischio che permettono di valutare una probabilità pre-test di sviluppare un'ipertensione cronica post-embolica che sono sia diciamo fattori inerenti all'evento indice, quindi la presenza di un evento di TEV di un grosso burden trombotico quindi un evento di TEV importante, la presenza di disfunzione al ventricolare destra all'esordio oppure la presenza e qui deve essere diciamo molto bravo il radiologo di segni radiologici di una preesistente malattia cronica tromboembolica perché in una percentuale molto elevata di pazienti in realtà l'evento acuto non è il primo evento clinico o perlomeno è un evento clinico che può diciamo essere preceduto da eventi subclinici quindi noi possiamo trovarci di fronte ad un paziente che ha già dei segni di malattia cronica tromboembolica e poi diciamo fattori di rischio inerenti al paziente tutta una serie di comorbidità che diciamo incrementano il rischio trombofilico del paziente quindi incidono su il rischio effettivamente di evoluzione in ipertensione cronica tromboembolica avevamo lasciato Paola in estate fondamentalmente si è sposata la rivedremo in autunno ed effettivamente è ancora sintomatica non è rientrata la normalità e i segni ecocardiografici di sovraccarico ventricolare destro in realtà con qualche differenza tra un ecocardio e l'altro comunque sfumatamente ma ci sono decidiamo di eseguire la spirometria con DLCO ma soprattutto un test cardiopolmonare che effettivamente conferma una ridotta capacità funzionale e segni di aumentate resistenze vascolari polmonari programmiamo una scintigrafia polmonare e in effetti sono evidenti difetti di perfusione multipli bilaterali per cui viene inviata la cardiopirurgia dell'ospedale San Matteo di Pavia adesso passo la parola un po' a Chiara che vi parla un po' bene io vi racconto qualcosa sull'ipertensione polmonare partendo direi dalle linee guida che comunque sono hanno un po' modificate sono state modificate nell'ultimo anno nel 2022 sono uscite le ultime linee guida che hanno un po' modificato i parametri prima del 2022 quindi gli ultimi linee guida risalivano al 2015 i valori di pressione polmonare che caratterizzavano sempre al cateterismo destro perché la diagnosi abbiamo visto comunque viene poi fatta con il cateterismo destro si caratterizzavano la condizione di ipertensione polmonare per una PAPS superiore a 25 mm di mercurio con ipertensione precapillare inferiore a 15 o con la pressione di incugnamento polmonare inferiore a 15 e con delle resistenze vascolari polmonari superiori a 3 questo in realtà è quello che accadeva ma oggi si sono abbassati i valori di PAPS perché si è visto che comunque dal punto di vista poi clinico e sull'impatto prognostico di questi pazienti in realtà i pazienti che avevano pressioni polmonare tra i 20 e i 25 erano un po' borderline spesso appunto evolvevano effettivamente in un quadro di ipertensione polmonare sintomatica pertanto i valori sono stati abbassati a 20 e questo ha decisamente modificato un po' la storia di questi pazienti che per valori appunto più bassi di pressioni polmonari vengono già classificati con un quadro di ipertensione polmonare cronica questa è la classificazione dell'ipertensione polmonare sono 5 gruppi noi oggi però ci occupiamo l'ipertensione polmonare idiopatica secondaria appunto a una malattia del cuore destro secondaria a patologie polmonari noi oggi ci occupiamo prevalentemente del quarto gruppo e cioè appunto l'ipertensione polmonare post-embolica è una complicanza rara in realtà dell'embolia polmonare acuta si caratterizza appunto per l'ostruzione cronica delle arterie polmonari nonostante un'adeguata terapia anticoagulante di almeno 3 mesi di trattamento questo poi diventa importante nella valutazione del follow up del paziente perché appunto il follow up di questi pazienti va fatto dopo un congro periodo di trattamento l'importanza sta anche nella diagnostica precoce sta anche nel fatto che comunque è l'unica forma di ipertensione polmonare ad oggi trattabile chirurgicamente ha un'incidenza io ho preso i dati di questo studio con uno studio osservazionale con un'incidenza cumulativa a due anni del 2,3% comunque i dati di incidenza annuale si aggirano a seconda degli studi tra l'1 e il 3% come già ampiamente detto Serena si parla di malattia cronica tromboembolica polmonare che è il quadro appunto la presenza di residuo trombotico a livello delle arterie polmonari non è detto che in una malattia cronica tromboembolica polmonare ci sia sempre l'ipertensione polmonare laddove ci sia ipertensione polmonare si parla proprio di ipertensione polmonare cronica postembolica perché questa distinzione perché come ha già detto Serena ci sono una serie di pazienti che manifestano sintomi comunque riconducibili all'ipertensione polmonare ma che poi di fatto non hanno una documentata ipertensione polmonare indubbiamente questo setting di pazienti è un setting particolare su cui in realtà si sa ad oggi ancora molto poco non è noto se in realtà l'assenza di ipertensione polmonare ma la presenza di sintomi poi sia un early stage di una ipertensione polmonare futura sicuramente quello che si è ottenuto con la modifica dei parametri delle linee guida attuali è che questi pazienti sono veramente diventati una minoranza fra i pazienti con malattia tromboembolica cronica sono diventati meno del 10% quindi comunque pochi pazienti hanno questo tipo di quadro clinico poi in assenza di ipertensione polmonare documentata quali sono i meccanismi fisiopatologici? i meccanismi fisiopatologici dell'ipertensione polmonare post-embolica fondamentalmente sono due il primo è l'occlusione delle arterie prossimali o distali per la presenza di un residuo trombotico che poi diventa di natura fibrotica il secondo è un meccanismo più fine legato proprio a una microangiopatia secondaria che si manifesta prevalentemente nelle zone non ostruite è legata alla redistribuzione del flusso e a un aumento delle pressioni con un conseguente danno endoteliale quindi un meccanismo microangiopatico in questo senso trovano spazio alcuni farmaci che poi vedremo si sono sviluppati nel trattamento dell'ipertensione polmonare proprio per andare a gestire questo tipo di problematica e quindi questo tipo di meccanismo fisiopatologico la storia naturale l'abbiamo già visto eventi embolici alterazioni ipertensive del letto vascolare polmonare alterazioni emodinamiche del ventricolo destro con un progressivo danno cardiaco una compromissione del ventricolo sinistro e un pergiornamento funzionale cardiaco che poi di fatto si traducono in una ridotta tollerabilità allo sforzo di spunea tosse qualche volta emotisi fino a un quadro conclamato di scompenso quindi con cianosi con epatomegalia scite edemi eccetera perché l'importanza della diagnosi perché la diagnosi precoce migliora di fatto l'outcome di questi pazienti una diagnosi tardiva si associa inevitabilmente ad un aumento delle PAPS al momento della diagnosi e questo aumenta il rischio di morte del paziente non influisce sull'intervento chirurgico perché dal punto di vista chirurgico in realtà questi pazienti anche con diagnosi tardiva se c'è l'indicazione al trattamento possono essere trattati tuttavia ha un impatto sul rischio di morte del paziente in questo senso chiaramente c'è l'importanza di individuare quali siano effettivamente i pazienti a rischio di sviluppare un'ipertensione polmonare post-embolica e come vi dicevo prima il timing ottimale per fare una valutazione di questo tipo è a tre mesi di follow up quindi completati i tre mesi di trattamento anticoagulante quali sono i pazienti che vanno attenzionati sicuramente i pazienti con all'esordio dell'evento una PAPS superiore a 60 mm di mercurio e questo va da sé questo è un paziente che sicuramente va attenzionato e va valutato in follow up per un potenziale monitoraggio ma direi che forse è il caso più semplice perché credo che nessuno di noi si sogni in un ambulatorio di non controllare un ecocardio a tre mesi a un paziente che è esordito con 60 di pressioni polmonari poi ci sono i pazienti che all'esordio hanno dei segni radiologici suggestivi di malattia cronica polmonare quindi in realtà l'evento indice è un evento che probabilmente che si è instaurato su un quadro di tromboembolismo cronico già presente ci sono dei segni TAC che sono abbastanza suggestivi e che classificano un paziente già più a rischio sono i difetti di riempimento eccentrici con tromiadesi alla parete l'assottigliamento il troncamento improvviso dei vasi occlusioni complete irregolarità intimali la dilatazione post-stenotica associata alla tortuosità dei vasi e proprio le bande intravascolari visibili all'angiotac questo tipo di dati che vengono evidenziati già all'ATTAC fatta per l'evento indice quindi per l'embolia polmonare rappresentano comunque un indice di ipertensione di tromboembolismo cronico sottostante quindi sicuramente un paziente di questo tipo è un paziente che va scrinato anche successivamente poi ci sono i pazienti invece che sviluppano a tre mesi una dispnea magari anche di nuova insorgenza o una scarsa tollerabilità allo sforzo quindi pazienti che vengono definiti come sintomatici e infine anche un certo gruppo di pazienti asintomatici sicuramente va attenzionato in particolare esistono pazienti asintomatici ma che presentano dei fattori di rischio che sono quelli che appunto la mia collega ha già identificato prima per cui sia fattori di rischio al momento dell'evento quindi legati all'evento indice sia fattori di rischio legati alle comorbidità che possono aumentare il rischio di sviluppare un'ipertensione polmonare post-embolica qui riassumo sostanzialmente quello che vi dicevo questi sono i criteri che ha già detto Serena questi sono i criteri i fattori di rischio predisponenti un'ipertensione polmonare post-embolica e a fianco ho messo quello che è lo score che al momento viene anche consigliato nelle ultime linee guida per classificare fra i pazienti sintomatici quelli che effettivamente sono a rischio di sviluppare un'ipertensione polmonare post-embolica e che quindi meritano quantomeno un follow up successivo uno step successivo questo è l'algoritmo diagnostico dei pazienti in cui si sospetta per fattori di rischio o appunto per sintomi un'ipertensione polmonare post-embolica in cui come si vede uno step l'ecocardiografia il secondo step è l'imaging e per l'imaging intendiamo la scintigrafia polmonare e a seconda appunto che chiaramente se questi sono già positivi il paziente viene già indirizzato a un centro specialistico il fatto di trovarli negativi può diciamo favorire l'esecuzione di altri test come appunto il test cardiopolmonare per magari identificare pazienti che hanno un quadro meno evidente quali sono dunque partiamo dall'ecocardio che sicuramente è l'esame che forse in prima battuta sicuramente si monitora in un paziente nel sospetto di un'ipertensione polmonare post-embolica abbiamo dei segni diretti di disfunzione ventricolare destra l'incremento delle dimensioni di altro ventricolo destro il movimento paradosso il diametro antero posteriore lo spessore di parete del ventricolo destro e eventuali ipocinesi a destra e in particolare la velocità di rigurgito tricuspidalico che ci consente di definire pazienti a bassa probabilità probabilità intermedia e ad alta probabilità di avere un'ipertensione polmonare post-embolica quindi questo ci consente già di fare un primo screening del paziente un paziente con una bassa probabilità è un paziente in cui bisogna cercare una diagnosi alternativa e in cui non è necessario proseguire con gli accertamenti che cosa si fa laddove sia invece necessario proseguire con gli accertamenti perché ci troviamo appunto di fronte a un paziente con una probabilità intermedia o alta beh in questo caso come vi dicevo il test cardiopolmonare aiuta a discriminare ulteriormente e poi la scintigrafia la scintigrafia che ancora l'esame diagnostico di prima scelta proprio perché ha un valore predittivo negativo altissimo del 98% al momento lo aggiungo l'attac l'angiotici anche diciamo nelle sue forme più evolute non è ancora non è considerato un'indagine diagnostica per lo screening dell'ipertensione polmonare post-embolica ma viene utilizzata nei centri di riferimento proprio per valutare l'operabilità in fase di appunto decisione interventistica la gestione e l'operabilità del paziente la risonanza in alcuni studi è stata diciamo valutata per l'ipertensione polmonare pare ci siano anche qualche c'è anche qualche dato comunque positivo però ancora è un esame ancora troppo che non viene fatto in molti ospedali quindi comunque ci sono delle anche delle limitazioni di tecnica e di proprio di disponibilità che ancora non lo fanno essere sicuramente un esame cardine quindi ancora l'esame cardine rimane la scintigrafia e poi ho riportato quelli che sono i segni elettrocardiografici segni elettrocardiografici che comunque hanno una loro importanza e che vedremo anche dopo sono stati anche utilizzati poi per cercare di identificare fra i pazienti appunto a rischio quali potessero essere effettivamente più candidati magari a ripetere un ecocardio e quelli che invece potevano essere in cui la patologia diciamo ipertensiva post-embolica poteva essere esclusa un piccolo excursus sul trattamento io qua ho con questa immagine vi faccio vedere quali sono i trattamenti che ci sono ad oggi per l'ipertensione polmonare post-embolica che sono sostanzialmente il trattamento chirurgico l'angioplastica e la terapia medica terapia medica che in realtà interviene come vi dicevo prima sui meccanismi della microangiopatia perché chiaramente sulla parte appunto occlusiva è poi la terapia chirurgica quella a fare da padrona io mi occuperò più della parte medica ad oggi sono l'unico farmaco che è stato approvato e è approvato all'ineguida nell'ipertensione polmonare post-embolica in Rio Ciguat e gestisce come vi dicevo la componente microvascolare dell'ipertensione polmonare post-embolica e il cardine della terapia è sicuramente la terapia anticoagulante a lungo termine terapia anticoagulante a lungo termine che vedremo è mandatoria e indipendente dal risultato poi sostanzialmente della chirurgia il Rio Ciguat è stato valutato in realtà in una serie di studi in alcuni studi randomizzati io qua vi ho portato l'ultimo che poi è quello che ha lo ha fatto entrare nelle linee guida nei pazienti con ipertensione polmonare post-embolica non operabile sono randomizzati in fase 3 che si chiama chest 1 in cui si è visto che appunto nelle forme non operabili o ricorrenti dopo intervento chirurgico c'è stata una riduzione delle resistenze vascolari polmonari del 31% e quindi le linee guida 2022 la raccomandano in questi pazienti in classe 1b risultati simili sono stati ottenuti nello studio RACE che in realtà è un studio di confronto per efficacia e sicurezza del riacico attraverso la geoplastica che appunto viene utilizzata nei pazienti non candidabili all'endoarterietomia e poi parliamo un pochino dell'anticoagulazione anticoagulazione che come vi dicevo è il cardine del trattamento di questi pazienti dal punto di vista medico perché è un'anticoagulazione che va fatta comunque a lungo termine indipendentemente dall'esito della chirurgia allo scopo sostanzialmente di prevenire le recidive in realtà non esistono studi randomizzati che avvalorino la terapia a lungo termine ma le linee guida la raccomandano comunque con un livello di evidenza 1c proprio sulla base dell'esperienza clinica e dei vari dati che sono stati estraporati dagli studi sul TEV recidivante che hanno dimostrato che comunque una componente di TEV recidivante si manifesta proprio in questo setting di pazienti quale terapia allora oggi abbiamo a disposizione oltre al Qmedin lo sappiamo gli anticoagulanti diretti che in realtà a livello di pratica clinica in questi pazienti sono sempre più utilizzati perché ovviamente sono più maneggevoli rispetto al Q rispetto agli antagonisti della vitamina K ma di fatto mancano ad oggi i dati di efficacia e di sicurezza di questo tipo di farmaci e l'altro dato che non bisogna dimenticare è che molti pazienti che sviluppano un'ipertensione polmonare secondaria post-embolica sono pazienti che hanno una sindrome di anticorpo antifosfolipidi ora non ricordo esattamente la percentuale ma non sono pochi per cui è molto importante ricercarla perché sappiamo che in questo setting di pazienti l'utilizzo dei DOAC soprattutto nel paziente triplopositivo ad oggi è assolutamente sconsigliata e si consiglia invece l'utilizzo degli antagonisti della vitamina K qual è lo stato dell'arte sul confronto in realtà il confronto DOAC a VK in questo setting di pazienti per ora si basava solo su studi retrospettivi quasi tutti fatti con numeri abbastanza piccoli il più numeroso è questo studio che vi riporto del Regno Unito in cui più o meno parliamo di circa 900 pazienti di cui due terzi erano trattati con antagonisti della vitamina K un terzo con anticoagulanti diretti se non ricordo male il più usato in questo setting di pazienti di questo studio osservazionale era il RIVA-Roxaban che hanno e la conclusione dello studio è stata che si sono viste una maggior quantità di recidive di TEV nei pazienti trattati in DOAC rispetto ai pazienti trattati con gli antagonisti della vitamina K con dati in realtà di safety sovrapponibili a cosa possa essere c'è poi un altro studio che è lo studio expert che qui non ho citato ma che insomma analizza il in realtà nato per analizzare il Rioci in questo setting di pazienti associato alla terapia anticoagulante in parte anche qui con gli antagonisti della vitamina K in parte con i DOAC e anche in questo caso i risultati sono sovrapponibili a questo studio quale può essere il problema può esserci anche un problema di interazione farmacologica perché comunque il Rioci Agisce come un inibitore competitivo delle PGP e quindi verosimilmente potrebbe effettivamente dare una riduzione di efficacia in particolare di rivaroxaban e apixaban questo potrebbe essere potenzialmente una spiegazione l'ultima diapositiva mia è per dirvi quali sono le novità in merito alla terapia anticoagulante le ultime cose che si sanno le ultime cose che ho trovato sono questo registro osservazionale giapponese che in realtà dà un quadro un po' diverso rispetto a quello che avevamo visto finora con dati sovrapponibili sia per efficacia che per sicurezza tra anticoagulanti diretti antagonisti della vitamina K in questo registro gli anticoagulanti diretti più o meno erano ugualmente rappresentati forse l'unico che era rappresentato poco era Alda Bigger tra gli altri tre erano sostanzialmente rappresentati in maniera uniforme e uno studio randomizzato che direi che è il primo studio randomizzato in doppio cieco fatto in Giappone ed è il non me lo ricordo più il Kabuki Kabuki grazie grazie che mi sei venuta in soccorso studio Kabuki che però è ancora appena terminato la fase di arruonamento perché la fase di arruonamento finiva nel 2022 su un piccolo numero di pazienti perché in realtà i pazienti sono 74 quindi direi pochi che è uno studio randomizzato in doppio cieco di confronto AVK versus ed Oxaban quindi di cui non abbiamo ancora i dati c'è da dire che fra gli studi che sono andata a vedere fra gli studi osservazionali gli studi giapponesi e questo ve lo lascio così come dato da magari analizzare perché no gli studi giapponesi rispetto agli studi europei americani danno in realtà una sostanzialmente una sovrapponibilità di come efficacia tra DOAC e AVK non so se magari legata al tipo di paziente al probabilmente al insomma al al setting di pazienti asiatici rispetto ai pazienti europei vai Serena allora quindi noi avevamo lasciato Paola che era stata valutata a febbraio una prima visita preliminare al San Matteo di Pavia viene poi chiamata a maggio per eseguire il cateterismo destro che in effetti conferma la presenza di ipertensione polmonare precapillare con resistenze polmonare aumentate compatibile con ipertensione cronica post-embolica per cui viene data indicazione dell'intervento di endoarterietomia ovviamente sulla base di tutta una rivalutazione globale strumentale in questi centri infatti c'è proprio un team multidisciplinare in cui ha un ruolo fondamentale oltre che il cardiochirurgo ovviamente il cardiologo lo pneumologo anche soprattutto il radiologo il radiologo esperto di malattie vascolari polmonari perché poi di fatto deve fornire una mappatura dell'albero vascolare polmonare sulla base della quale si stabilisce l'operabilità del paziente perché i criteri di operabilità ovviamente della tipologia di intervento sono diciamo fondamentalmente criteri di sede anatomica come vedremo l'intervento poi verrà posticipato di un po' di mesi perché purtroppo Paola ha riportato una complicanza post procedurale ha sviluppato un ematoma retroporitoneale legato a diciamo la procedura di legato all'accesso diciamo femorale e l'intervento è stato posticipato a risoluzione a completo riassorbimento dell'ematoma e viene operata ad ottobre quindi è stata fatta una diagnosi più o meno a 12 mesi l'intervento il cateterismo destro ha un anno e mezzo dall'evento indice e qui ci troviamo fondamentalmente a quasi due anni dall'esordio della malattia e vedete i parametri emodinamici al cateterismo destro pre-intervento chirurgico e post-intervento chirurgico vedete come le pressioni in arteria polmonare le pressioni medie si sono ridotte non erano diciamo pressioni marcatamente aumentate vedete come migliorata la portata cardiaca si sono quasi dimezzate le resistenze polmonari il risultato operatorio è stato definito buono sicuramente da un punto di vista dei sintomi Paolo ha avuto una risoluzione completa dei sintomi abbastanza immediata e un netto miglioramento funzionale diciamo giusto qualche cosa sulla trombo e l'artirectomia polmonare da non addetti ai lavori ovviamente è un intervento di chirurgia conservativa che consiste nella disostruzione dei vasi polmonari dal materiale tromboembolico e dal gold standard nelle ostruzioni prossimali quindi arterie principali lovari e segmentali in realtà diciamo negli anni si è assistito ad ad un aumento del numero di pazienti ritenuti operabili perché molto spesso si operano anche lesioni subsegmentare trombosi subsegmentare come in questo caso e questo per l'affinarsi delle tecniche chirurgiche in particolare il professor Darmini ci ha spiegato come l'intervento di endoartirectonia polmonare che esegue una pavia si svolge secondo una tecnica innovativa introdotta proprio dal team di pavia che prevede dei periodi di circolazione extracorporea con arresto di circolo intermittenti intervallati da brevi periodi di riperfusione che permettono di indurre un'ipotermia in realtà moderata allungano di molto il tempo operatorio questi sono già interventi di base molto lunghi di oltre 12 ore molto spesso e consentono quindi al chirurgo prendersi tutto il tempo necessario per disostruire minuziosamente anche i rami polmonari subsegmentari quello che noi dobbiamo sapere come non addetti ai lavori al di là di queste informazioni un po' generali sull'intervento è che l'età avanzata non è una controindicazione di per sé all'intervento chirurgico e non esiste un valore di disfunzione ventricolare destra che lo precluda la mortalità postoperatoria attualmente è sotto al 5% quindi si è assistito negli ultimi 20 anni ad una diciamo notevole come dire una notevole acquisizione di esperienza nei centri nei pochissimi centri perché comunque ci saranno una decina di centri al mondo che comunque se ne occupano è una metodica che è stata introdotta negli anni 80 la mortalità inizialmente era molto molto elevata adesso in mani esperte la mortalità postoperatoria è inferiore al 5% e la sopravvivenza è attualmente a 5 anni di oltre l'80% rispetto a diciamo quanto si osservava pochi anni fa quando era diciamo sicuramente un'esperienza minore e teniamo conto che nei pazienti non operati la sopravvivenza a 5 anni è inferiore al 50% questi pazienti sviluppano già in sala operatoria un miglioramento emodinamico quindi un crollo delle resistenze vascolari polmonari si osserva già in sala operatoria poi nelle settimane nei mesi successivi hanno proprio un rimodellamento inverso del ventricolo destro questo si traduce in un netto miglioramento funzionale e della qualità di vita nella stragrande maggioranza dei pazienti quindi questo per riassumere le opzioni chirurgiche come dicevo diciamo dipendono dalla localizzazione anatomica quindi l'endorterectomia polmonare è il low standard per le lesioni centrali le lesioni esclusivamente periferiche sono diciamo di appannaggio dell'angioplastica polmonare che però è una metodica su cui si ha meno esperienza ad oggi si pratica in centri molto molto selezionati in alcuni centri è anche una metodica combinata all'endorterectomia polmonare a completamento diciamo dell'endorterectomia polmonare per diciamo ultimare il risultato sulle localizzazioni più distali e poi abbiamo detto la terapia medica che anche questa può essere diciamo abbinata alle procedure chirurgiche sia come ponte sia nelle forme di ipertensione polmonare residua ora io come ultime mie due diapositive volevo farvi vedere diciamo l'ultima novità in termini di screening di ipertensione polmonare postemmolica che è l'algoritmo in shape questo algoritmo è stato valutato in uno studio recente prospettico coordinato da un gruppo di ricercatori olandesi che aveva lo scopo di individuare precocemente un'ipertensione cronica postembolica dopo embolia polmonare attraverso uno screening che selezionasse in modo molto accurato i pazienti da sottopore ad ecocardiografia questo per quello che tutti noi sappiamo e cioè che di fatto l'ecocardiogramma non è così tanto riproducibile soprattutto quando parliamo di parametri di funzionalità destra è molto operatore dipendente in generale come tutti gli esami ecografici ma è esperienza penso di tutti noi effettivamente far fatica tante volte a diciamo come dire confrontare diversi referti ecocardiografici la sensibilità in effetti e specificità non è non è elevata quindi si assiste molto spesso a a falsi positivi o falsi negativi quindi è una risorsa diciamo da in qualche modo vado ottimizzare sicuramente in questo in questo studio i pazienti venivano inizialmente screenati sulla base di uno score predittivo una probabilità clinica pretest che è quella che ho già fatto vedere chiara poi vi farò vedere nella prossima diapositiva che permetteva di diciamo classificare i pazienti clinicamente in pazienti ad alto o basso rischio nei pazienti ad alto rischio in base a questi criteri che vedremo pretest e nei pazienti a basso rischio di ipertensione cronica post-embolica ma con sintomi compatibili con ipertensione cronica post-embolica lo step successivo era la valutazione di criteri di esclusione criteri di esclusione fondamentalmente criteri elettrocardiografici di impegno ventricolare destro e il BNP nei pazienti nei quali non erano presenti criteri elettrocardiografici né incremento del BNP l'ecocardiogramma veniva omesso venivano sottoposti ad ecocardiogramma solo i pazienti con criteri elettrocardiografici o e o BNP alterato bene applicando questo algoritmo sono stati classificati correttamente 342 su 343 pazienti quindi non è stato individuato soltanto un paziente quindi solo un paziente che era stato giudicato non meritevole di ecocardiogramma al follow up entro due anni ha ricevuto una diagnosi di ipertensione cronica tromboembolica quindi questo diciamo algoritmo ha permesso effettivamente di escludere con un grosso margine di certezza l'ipertensione cronica tromboembolica utilizzando l'ecocardiogramma solo nel 19% dei dei pazienti questo è l'algoritmo in shape appunto che vi dicevo che non è ancora non fa ancora parte delle linee guida ma diciamo è stato accolto con diciamo un certo un certo entusiasmo i criteri di probabilità clinica pretest sono questi vedete che alcuni sono intuibili altri molto meno tipo l'ipotiroidismo o il così il valore protettivo del diabete mellito comunque da prendere così com'è e i criteri invece di rule out che sono appunto criteri elettrocardiografici e il BNP quindi probabilità clinica pretest alla diagnosi stratificazioni in alto e basso rischio ecocardiogramma nei pazienti o ad alto rischio o a basso rischio ma con sintomi e dicevo se soddisfatti i criteri di di rule out o in assenza di BNP nessun ecocardiogramma diversamente ecocardiogramma e se diciamo un ecocardiogramma positivo con elevata probabilità di embolia o intermedia di ipertensione cronica post-embolica scintigrafia e come l'algoritmo delle linee guida ESC riferimento a centro diciamo specialistico quindi questo diciamo algoritmo tornando diciamo alla diapositiva precedente come dire forse si fa fatica a immaginare di non ricorrere subito a un ecocardiogramma in un paziente che presenta sintomi persistenti noi immaginiamo insomma che è la prima cosa che ci viene in mente ma questo lo specificano gli autori non è un algoritmo che vuole diciamo come dire scridare le cause di disfnea in questi pazienti perché è chiaro che poi l'ecocardiogramma fornisce diagnosi alternative di disfnea qui lo scopo è identificare precocemente un'ipertensione cronica post-embolica e con questo algoritmo in effetti queste diagnosi sono state fatte nella maggior parte dei casi addirittura entro quattro mesi poi noi dobbiamo pensare anche a un setting di cure primarie al territorio cioè alle liste di attesa comunque per eseguire un ecocardiogramma e diciamo effettivamente selezionare i pazienti che realmente diciamo meritano la valutazione ecocardiografica permette sicuramente di diciamo ottimizzare le risorse evitare un overdiagnosi perché poi molto spesso diciamo questi pazienti poi proseguono un iter diagnostico strumentale anche molto dispendioso ma diciamo l'ipertensione polmonare poi non viene in effetti documentata perché poi tutti questi pazienti sono stati sottoposti a cateterismo destro effettivamente diciamo il risultato è stato questo il paziente è perso è stato solo uno tra l'altro questo paziente era un paziente con una bassa probabilità pretest con criteri cardiografici assenti con BNP normale al cateterismo destro in effetti aveva una pressione arteriosa media tutto sommato ai limiti era un 26 millimetri di mercurio con resistenze vascolari polmonare in realtà non aumentate quindi forse questo era più un paziente diciamo un po' borderline tra una malattia cronica trombembolica e una vera ipertensione polmonare non sappiamo diciamo come poi questo paziente è evoluto nel tempo il follow up è terminato a due anni quindi diciamo il messaggio conclusivo è ovviamente l'importanza del follow up quindi seguire il paziente in ambulatorio capire come sta e pensare al follow up del paziente con embolia polmonare non ai fini ovviamente del rinnovo del piano terapeutico ma ai fini dell'identificazione precoce di una malattia che veramente se non diagnosticata correttamente ha una prognosi davvero in fausta sulla quale invece si può rintervenire in modo decisivo quindi teniamo conto che appunto come ha già detto Chiara è l'unica forma chirurgicamente curabile e l'impatto decisivo sulla prognosi della malattia il ritardo diagnostico in media di 14 mesi è legato al mancato riconoscimento precoce e alla nostra forse consapevolezza non come dire adeguata di quello che dovrebbe essere il corretto follow up clinico strumentale e poi dobbiamo ricordarci che abbiamo in Italia un centro insomma veramente di alto livello e al quale dobbiamo riferire il paziente in tempi assolutamente rapidi e con questa ho terminato questo mi si fa molto bene Giancarlo commenti no dunque alcune cose ci sono venute in mente gli scegli ci piace ma mi sembra che porti abbastanza frequentemente a fare catteterismo cioè se tu hai un centro ben organizzato a fare catteterismo può essere ben considerato il punteggio di probabilità della paziente che avevi calcolato era 11 cioè era sicuramente alto no perché era una non provocata aveva sintomi da due mesi e quindi aveva molte caratteristiche effettivamente per poter avere un'ipertensione polmonare secondaria un'altra cosa che volevo chiedervi è se la scintigrafia debba essere per forza perfusionale e ventilatoria o se abbia senso fare soltanto una scintigrafia perfusionale tutto sommato perché i dati vengono in gran parte soltanto dalla perfusionale se il paziente non ha altre patologie polmonali ecco io credo che la maggior parte dei casi poi non ne abbiano in cronica cosa ne pensi da questo punto cosa ne pensate da questo punto ma allora come dire tu no no vai vai dipende dal paziente è chiaro che l'accuratezza di una scintigrafia diciamo in un ventilo perfusionale in una paziente diciamo sana verosimilmente a livello di parenchima polmonare può essere diciamo sovrapponibile all'accuratezza di una sola scintigrafia perfusionale è chiaro che diventa un po' più complicato nei pazienti diciamo con comorbidità con pneumopatia per cui a quel punto diciamo la sola scintigrafia perfusionale può non essere magari così in questo senso diciamo credo che sia promettente la la dual energy che nei pazienti con grave compromissione parenchimale diciamo offre sicuramente dei grossi da tante informazioni funzionali anatomiche però in mancanza di una scintigrafia ventilo perfusionale anche la sola scintigrafia perfusionale può essere può essere utile può essere utile adeguato io vi faccio un sacco di complimenti sono molto orgoglioso di voi questo è chiaro nonostante l'età quello vuol dire esperienza io mi ricordo parlavo tantissimo quando mi dicevano che ero un giovane medico dopo i 40 anni perché sei maschio Gianna perché sei maschio alle signore non si dice una cosa così quindi va bene ma comunque l'esperienza è importante sicuramente io direi direi che fatta sul campo ed è giusto come dire ribadire questa cosa allora io avevo pensato per le domande ma loro mi hanno risposto durante la presentazione quindi direi che a questo punto credo che possiamo anche fermarci qua è molto completa la loro presentazione ma assolutamente sì ripeto io mi ero scritto delle domande mi ero anche staccato dal video per prendermi gli appunti ma poi loro mi hanno risposto durante la presentazione niente allora io ringrazio veramente tanto il caso è stato molto molto interessante e molto bello e niente poi noi l'appuntamento prossimo è il 23 di maggio con un caso che presenterà Matteo Caichi sulla trombose arteriose venose in donne con pregresso melanoma quindi niente ci vediamo per due martedì grazie a tutti buona serata ciao 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 Grazie.